tonda party 2024 riccardo cervelli riccardo cervelli lavora come insegnante e scrittore tecnico ma l'arte ha una passione che coltiva da sempre nato a pisa e cresciuto in versilia si appassiona giovanissimo al disegno e alla pittura sperimentando varie tecniche dalla matita al carboncino dall'acquarello alla pittura a tempera e con colori acrilici realizza le sue prime opere ad olio intorno agli 11 anni in seguito gli studi tecnici lo portano ad interessarsi anche alla computer grafica mentre a carrara ha modo di conoscere da vicino il mondo del marmo e della scultura il confronto e il dialogo con vari artisti e maestri gli hanno permesso di sperimentare e affinare le proprie tecniche una sua opera è entrata nell'archivio storico olivetti e i suoi dipinti sono visibili in diverse mostre virtuali e concorrono a premi come l'arte laguna prize e il luxembourg archives predilige i paesaggi e le marine dove rappresenta con delicatezza ma anche con determinazione sfumature di colore giochi di luce e ombre grazie a tutti Grazie a tutti.